Buonasera a tutti. Ecco, siamo tornati dopo alcuni giorni di riflessione. Non è che abbiamo abandonato il sito, siamo sempre rimasti qui a presidiare. Ho pensato che fosse necessario un attimo di stoglierci dai numeri, perché i numeri possono essere rappresentativi se visti su un arco di tempo, non giornalmente. E quindi ecco, adesso torniamo dopo alcuni giorni per esaminarli. Parto dal solito dato che ci perviene dalla regione Emilia-Romagna, in questo caso specifico, dalla provincia di Bologna, dall'USL. Ora, per quanto riguarda le persone positive, sempre riferite alla provincia di Bologna, sono 3.473, il trend si colloca sempre attorno al 2%, quindi siamo a livelli stabili a livello di provincia. Persone di isolamento fiduciario 750, guarite 676, e decedute oggi, ad oggi, 378, più 8. Quindi è ancora un dato che fa pensare, richiede attenzione. Per quanto riguarda San Giovanni in Persiceto, nel nostro territorio abbiamo 125 persone positive, un più 14, non è male. L'isolamento fiduciario è 25, quindi manteniamo lo stesso trend. Ricordo che l'isolamento fiduciario sono quelle persone che sono venute a contatto, o meglio, che sono poste in condizioni in modo tale che potenzialmente potrebbero essere state contagiate delle persone positive. In quarantena 92, persone decedute 12, quindi manteniamo i 12 dei giorni scorsi. Ora, il balzo che si rileva, questa continua crescita degli ultimi giorni, lo vediamo, insomma, con regolarità, è 14 la giornata di oggi, che non è poco, lo relaziona al dato che noi abbiamo sempre individuato, cioè alcuni focolai che sono generati nelle strutture protette. Nel caso specifico vorrei riportarvi all'attenzione quello che è il dato delle nostre situazioni che abbiamo individuato, quindi della casa di riposo, casa protetta, la CRA di San Giovanni, e anche le altre strutture, chiamiamo di protette anche questo, che ospitano anziani, insomma, Villa Isabella e Villa Maria. Non sono aggiornatissimi questi dati perché oggi non li ho ricevuti, o quelli di ieri, c'è 9,4. In casa protetta, quindi casa residenza per anziani di San Giovanni, abbiamo positivi ospiti, 25 ospiti positivi. Gli operatori sono 12 positivi. Ah, dicevo, per gli ospiti 19, 25 positivi ospiti, di questi 4 sono in ospedale. Quindi 21 residenti, 4 in ospedale. Operatore, ne abbiamo 12 positivi, di cui uno in ospedale. A questi 12 positivi operatori, devo anche dare questa informazione, dal dato che, ripeto, non è aggiornato perché è del 19, abbiamo 9 in isolamento fiduciario, adesso a casa, diciamo, sospetti, che potrebbero aver contagiato il virus avendo avuto contatto con persone positive. Quindi, sommando tutte le persone positive, positive, e quindi non isolamento fiduciario, abbiamo 25 positivi ospiti, 12 operatori, siamo a 37 persone positive. Se poi aggiungiamo le persone positive nelle due realtà di assistenza agli anziani, quindi Villa Isabella e Villa Maria, che sono rispettivamente 11 e 18, arriviamo a 56. Quindi in queste due realtà abbiamo 56 persone positive. Ahimè, eh, non dico, se non sono poche. Che, se volessimo fare un dato relativizzato, perché appunto si dice di rapportare i dati, se andiamo a sottrarre queste 56 persone, le 125 positive oggi rilevate, andiamo a 69 persone positive sul nostro territorio. Quindi confermo quello che ho detto qualche giorno fa. Come andamento di positività di persone fuori da due realtà, di quelle realtà, diciamo, dove abbiamo rilevato questi focolai, abbiamo una stabilizzazione di persone positive, che si collocano all'intorno che avevamo attorno all'8, il 9, l'8 di marzo, ed era quello che avevamo così sui 65-70 persone. L'altro dato che volevo, se riesco a rilevarlo immediatamente, è questo qua, e cioè, ah, un'altra cosa importante, se no, no, finisco lo ricordo dopo, sulle case protettorie, quando dopo. Ecco, mi sono fatto dare alcuni dati che, ecco qui, eccoli qua. Cioè, giusto per anche avere dei dati sempre così precisi, ho fatto valutare all'Ufficio Anagrafe l'andamento dei deceduti. Non è un esercizio così, è puramente informativo, è quello che voglio darvi come informazione, come dato. I morti residenti, 2019-2020, morti deceduti sul territorio di San Giovanni in Pesticetto, 2019-2020. morti deceduti e residenti sui territori di San Giovanni in Pesticetto ad oggi, cioè da gennaio ed aprile del 2019 erano stati 104, del 2020 109. Questo ho voluto fare per capire quanto il Covid-19 è inciso sulla mortalità del nostro territorio. Devo dire con sorpresa, ma questi sono dati chiaramente presi all'oggi, quindi vanno sempre visti con uno spazio temporale più ampio, come dicevo in promessa. Ve lo do così, però non è che vogliamo poi vederlo nel prosieguo dei giorni qual è il dato effettivo, rappresentativo, più preciso. Comunque, ad oggi dicevo abbiamo che l'aumento nel 2020 maggiormente l'abbiamo avuto nei primi mesi, gennaio e febbraio. rispettivamente di gennaio abbiamo avuto quattro persone in più morte nel 2020 rispetto al 2019 e sei nel febbraio più sei persone nel 2019 rispetto al 2020 mese di febbraio. Quindi sei, quattro, dieci più o meno in più del 2019. E quindi se andiamo a andare sul dato definitivo praticamente se togliessimo questo aumento, togliessimo diciamo il dato più elevato nei primi mesi dell'anno, nei mesi di marzo e aprile sul nostro territorio nonostante il covid-19 abbiamo avuto meno decessi nel 2020 rispetto al 2019. Mi sembra utile anche avere questo dato qui. Quindi liberisco al di là dei primi mesi dell'anno nei mesi che secondo noi abbiamo avuto in maggiore esposizione del covid-19 i decessi marzo e aprile di oggi quindi riferiti al 20 di aprile abbiamo avuto meno decessi nel 2020 rispetto al 2019 di persone residenti sul nostro territorio. Se viceversa andassimo anche sul dato complessivo dei morti che sono avvenuti sul nostro territorio ricordo che noi segniamo i morti di qualsiasi tipo quando accade un incidente stradale un defunto in ospedale in casa protetta ecco la registrazione viene sul nostro anagrafe su persiceto. quindi complessivamente se dovessimo analizzare complessivamente il dato quindi ripeto tutto quello che è capitato i decessi nel loro insieme sul nostro territorio senza distinzione di appartenenza quindi di residenza del 2019 al 20 di aprile sempre di quest'anno sempre riferito alla data del 20 aprile nel 2019 abbiamo avuto 141 decessi nel 2020 sempre al 20 di aprile abbiamo avuto 122 decessi quindi per dirvi che il trend così nonostante il covid non è così negativo per quanto riguarda i decessi questo non vuol dire come dire che siano cose positive non sto dicendo che sia positivo questo per un dato che dobbiamo sapere dovete sapere il covid non sta incidendo in maniera rilevante sull'andamento dei decessi dicevo caso protetta giusto per completare il dato noi abbiamo una situazione piuttosto preoccupante considerate che vi ho detto prima che sono 12 operatori positivi e 9 in isolamento fiduciario quindi vuol dire una ventina di persone che non operano più in casa protetta i due terzi di persone non lavorano più in casa protetta quindi la situazione è molto pesante da un punto di vista gestionale questa operazione è così pesante poi si è avuto ripercussione anche sulle informazioni che vengono date e devono essere date ai parenti e alle persone ospitate allora mi sono attivato e ho richiesto e ho ricevuto oggi proprio l'informazione da parte del presidente che ha messo a disposizione una figura professionale che risponde tutti i giorni dalle 10 alle 12 ai parenti e delle persone ospitate la persona è Renato Mazzucca infermiere che è presente in struttura è stato assegnato con la struttura il cui telefono ve lo do ma sarà anche riportato dai nostri siti è 3920864255 risponde dalle 10 e mezzogiorno tutti i giorni alle persone che vogliono sapere come stanno i loro cari i loro parenti i loro cari appunto presenti e ospiti nella struttura protetta la nostra casa protetta è un argomento di questo che spesso mi veniva chiesto che non riuscivano ad avere interlocuzioni che non riuscivano ad avere informazioni ora ho chiesto appunto di avere una figura che potesse rispondere con regolarità quindi sappiatelo dalle 10 e mezzogiorno ci sarà qualcuno che risponde alle vostre domande ripeto il telefono è 3920864255 ecco quindi volevo darvi questa informazione di carattere generale quindi vuol dire che le azioni che stiamo compiendo che stiamo adottando che stiamo rispettando sul nostro territorio danno un mantenimento dello Stato non c'è una crescita quindi stiamo andando bene continuiamo così stiamo andando bene mi aspetto che ci sia andamento riduttivo l'altro dato che ho chiesto che andremo a verificare nei prossimi giorni è anche questo sappiate che io ho interlocuzione non dico quotidiana ma abbastanza frequente con il referente dell'Asla provinciale dottor Pandolfi il quale mi ha confermato che dobbiamo sapere anche queste cose è giusto che ve le dica che le priorità che ha messo in campo l'Asla provinciale a seguito indicazioni chiaramente della regione ha dato queste priorità l'intervento l'intervento vuol dire entrare capire conoscere solite cose che diciamo tutti noi vorremmo capire e conoscere per agire di conseguenza capire e conoscere vuol dire fare tamponi esami sireologici tutte queste cose qui che sono necessarie per inquadrare le questioni le priorità che sono date le Asla che è un'indicazione che ha ricevuto anche l'Asla della provincia di Bologna la priorità dicevo sono queste primo intervento sulle strutture ospedaliere personale sanitario ospedale creare strutture protette quindi qui in queste strutture si effettueranno con regolità e direi quasi in orizzontale così mi è stato detto tamponi esami sireologici per capire come si è messo isolare le persone negative da quelle positive in sostanza due seconda priorità sono le persone diciamo sempre appartenenti al settore sanitario però che operano sul territorio quindi medici di famiglia infermieri che agiscono sul territorio quindi capire anche lì come siamo messi questo è un dato che mi interessa molto anche per una logica di positività perché sono anche convinto in queste informazioni che ci arriveranno infermieri o anche persone che operano in diretto contatto con le persone anche se non sono in struttura probabilmente sono più esposte rispetto ad altre persone ad altri comuni cittadini terza priorità che è data sempre data la regione quindi dell'USL è intervenire quindi tamponi esami sireologici sempre sulle forze dell'ordine polizia caribinieri polizia locale vigere il fuoco e così via infine la quarta priorità è la popolazione è chiaro che si è arrivato a dare questa priorità perché non si riesce e così mi confermano ad agire orizzontale quindi non ci sono sufficienti risorse e chiamiamoli reagenti reagenti per effettuare tamponi osami sireologici su tutte le persone e quindi per forza si devono dare le priorità le priorità che ho detto prima quindi personale sanitario ospedaliero ed intorni personale sanitario sul territorio forze dell'ordine popolazione queste sono le priorità a discendere bene io adesso vi ho dato queste informazioni di carattere generale poi chiaro che man mano che mi arrivano anche io vi do quelle informazioni che ricevo e che sollecito invito che faccio un cuore però in quest'ottico qui perché sento una grande voglia di intervenire ed è giusto che ci sia la voglia di intervenire e di conoscere ho detto prima che io ho voluto una persona che rispondesse tutti i giorni a chi vuole sapere e conoscere però non apriamo processi non è il momento dei processi adesso è il momento di capire e di agire conoscere per agire non apriamo i processi è stato fatto c'è una tax force è stata costituita dall'azienda sanitaria locale che opera in queste strutture protette anche oggi ha agito operato sul nostro territorio andando a visitare sia le CRA sia luoghi di permanenza di persone anziane di ricovero per analizzare la situazione stanno lavorando stanno agendo stanno cercando di capire ma non è anche noi in questo caso non è che noi siamo assenti ci siamo ci vediamo tutti venerdì con questa tax force per capire come vanno le cose chiediamo informazioni abbiamo chiesto informazioni sui protocolli quali sono i protocolli che saranno prima e quelli che sono adesso in virtù di queste situazioni qua ma ripeto io non vi permetto e non lo farò in questo momento in termini per settori noi dobbiamo essere collaborativi dobbiamo tutti essere uniti per dare risposte per risolvere problemi non agiamo in termini ripeto di processo non è il momento non è il momento e sento una grande o meglio non da tutte le parti qualcuno agisce in questa direzione non è il momento bene oggi sono qui anche non ho detto in premesso dico adesso chiedo scusa all'assessore e vice sindaco Cerchiari Valentina che qua con me non l'ho detto in premesso lo dico adesso ma io ho talmente preso dai dati che mi sono fatto un po' condurre troppo in maniera così sentita adesso direi che come è stato annunciato anche dalle informazioni che sono arrivati in premessa dei nostri social e qui con noi Cerchiari Valentina assessore a tante robe dallo sport associazionismo sociale eccetera che vi fa un po' il quadro ci fa il quadro della situazione come stiamo operando nell'ambito del sociale per cui abbiamo fatto tante cose io altra volta ve le ho raccontate in maniera molto rapida ma troppo succinta per Divo ecco che venisse oggi in maniera rappresentata in maniera molto più strutturata e precisa da parte dell'assessore che segue puntualmente e quotidianamente questo settore insieme a tutti i nostri tecnici insieme al volontariato insieme a tutto il personale del comune al quale dico fin da adesso un grande grazie bene dottoressa Cerchiari a lei è la parola grazie buonasera a tutti ringrazio il sindaco per avermi dato questa possibilità questa sera io ci tenevo in particolar modo come ha già detto il sindaco a ringraziare tutti gli uffici comunali le assistenti sociali gli amministrativi e tutti i volontari che con noi hanno collaborato da subito per la gestione di questa emergenza perché sì si tratta sicuramente di un'emergenza sanitaria ma è soprattutto per quanto mi riguarda un'emergenza sociale l'obiettivo che ci siamo dati subito nei primi giorni era quello di cercare di dare risposte a tutte le persone che normalmente usufruivano dei nostri servizi a domanda individuale mi spiego vi faccio un esempio ci sono tante persone che normalmente tanti anziani frequentano i centri di urni i centri socio-recreativi e che improvvisamente si sono visti togliere questi servizi per esigenze dovute al covid-19 quindi come potevamo farci sentire ancora vicini e non perdere questo rapporto di fiducia che si crea in tanti anni ma anche solo in piccoli periodi in cui le persone usufruiscono dei servizi ecco la domanda che ci siamo fatti abbiamo cercato di rispondere nel migliore dei modi abbiamo subito contattato le associazioni di volontariato che normalmente sono coinvolte nell'attività ordinare del comune e abbiamo chiesto loro di fare uno sforzo maggiore devo dire che c'è stata una risposta immediata abbiamo cercato di avere più volontari e la risposta è stata al di là di ogni aspettativa abbiamo avuto una abbiamo circa 100-130 volontari disponibili a partire ora non sono tutti attivi ma cercheremo di turnarli e far sì che tutti possano essere attivi nei vari progetti che abbiamo messo in campo siamo partiti subito con la spesa a domicilio in modo tale che le persone più fragili non si sentissero obbligate ad uscire di casa ma abbiamo fatto di più appunto le persone che si sono viste costrette a rimanere a casa dai centri di urne abbiamo pensato di contattarle sono 156 le persone che due volte alla settimana vengono contattate sia dai volontari che dagli assistenti sociali per mantenere questo filo diretto col comune ma anche per capire se c'è qualcosa in più che possiamo fare per loro abbiamo attivato un supporto psicologico con una convenzione con gli psicoterapeuti di MDR che fanno un supporto psicologico appunto di tre o quattro seduti assistenti sociali in questo periodo di grosse difficoltà abbiamo attivato la solidarietà nel piatto solidarietà nel piatto che coinvolge circa 12 esercizi commerciali sul territorio in realtà l'elenco degli esercizi commerciali che ha deciso di partecipare a questa iniziativa è in continuo aggiornamento per cui invito i cittadini a rimanere in contatto con i canali del comune in modo tale che sappiate dove avviene questa raccolta a questi vanno aggiunte tutte le donazioni per cui anche qui ringrazio gli esercizi del nostro territorio che hanno deciso e le imprese che hanno deciso di donare dei beni di prima necessità in modo tale che possiamo noi dare una risposta anche ai bisogni alimentari dei cittadini oltre a quello che è stato fatto col bando dei buoni pasti qui faccio una piccola postilla sta per partire l'ulteriore progetto dei beni di tutti per cui tutti questi beni che sono stati raccolti e che i volontari stanno stivando in luoghi specifici possono essere distribuiti alla cittadinanza verranno distribuiti a chi è in difficoltà per la situazione dell'emergenza covid-19 già da domani partiranno delle email a chi ha presentato la domanda per poter accedere ai buoni pasto sia a chi è stato diciamo così accettato perché aveva le caratteristiche rispondeva ai requisiti previsti nel bando ma anche a chi è stato escluso più a una serie di persone che hanno contattato i servizi sociali perché è in difficoltà quindi cercheremo di distribuire cibo e beni di prima necessità alle persone che in questo momento ne hanno bisogno volevo dire questo non vi sentiate in difficoltà rispetto a fare una telefonata al comune se avete questo tipo di esigenza cercheremo di rispondere a tutti i volontari poi si sono attivati anche per consegnare le famose mascherine vi do un po' di numeri anche se il sindaco ne ha parlato tanto in questi giorni ma anche qui sono numeri in continua evoluzione sono state consegnate 2000 mascherine nei supermercati spedite 12.600 mascherine mascherine che sono quelle che sono arrivate dalla regione Emilia Romagna ma grazie anche ai volontari che ne hanno imbustate e preparate 140 mascherine per bambini che vengono consegnate alle cartellerie ridicole insieme a altre 870 mascherine per adulti più tutte quelle che stanno arrivando continueremo con questa procedura le daremo a tutti tramite i volontari ecco ci tenevo a concludere dicendo questo siamo in emergenza stiamo cercando di gestire nel migliore dei modi abbiamo ampliato gli orari delle assistenti sociali sono sempre a disposizione tramite una telefonata ma noi siamo qui ancora anche per quella che è l'ordinaria attività dei servizi sociali quindi non smettete di contattarci cioè se ci sono necessità dal punto di vista anche dell'assistenza domiciliare per gli anziani o altro tipo di necessità noi ci siamo e questo è il messaggio che deve passare stasera il comune c'è cercherà di dare risposte nel miglior modo possibile a qualsiasi esigenza che il cittadino abbia e poi direi insomma che più o meno vi ho trasferito tutte quelle che sono le attività che noi stiamo sfacendo aggiungo anche che le assistenti sociali giusto per concludere contattano anche tutti i cittadini che sono i quarantenati o che sono in isolamento fiduciario nel caso in cui abbiano delle esigenti anche per essere indirizzati rispetto a quelli che sono i servizi previsti ad hoc per loro in questo momento temporaneo in questa situazione temporanea in cui si trovano ecco direi che vi ho vi ho un po' raccontato tutto grazie 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 vice sindaco per quello che hai detto per quello che hai rappresentato per quello che stiamo facendo e stai facendo adesso vediamo un po' di vedere un qualche quesito che mi è stato posto ecco in primis perché vedevo scorrere tante volte per cesetane non è che voglio fare la differenza tra cesetane e non è che nel dare il dato complessivo quando si definiscono le incidenze di mortalità per esempio il dato che emerge è come uno muore San Giovanni perché è un ospedale ma arriva da un'altra situazione oppure un incidente stradale una transita su San Giovanni la scienza ne viene sul territorio San Giovanni era per questo che cercavo di dare un dato preciso riferito al territorio ma se è ben chiaro un morto è un morto non siamo in cui far distingo è chiaro ci tengo però perché si venga come dire dato il giusto contributo al nostro territorio perché noi abbiamo una cra abbiamo un ospedale abbiamo le strutture protette quindi è giusto che diamo anche informazioni precise in questo senso dunque vediamo un po' qualche quesito allora Laila la sanificazione quando verrà fatta sì qui ormai è un tema che è ricorrente lo sto dicendo un po' di tempo io ho una più che una sanificazione farei proprio una pulizia perché sanificare vuol dire usare prodotti che in maniera molto se vengono usati in maniera spinta ad oggi l'ASLON ci dà un particolare come dire sostegno sul fatto di usare prodotti che vadano a incidere presentemente sulla sanificazione del territorio esterno poi questo non capisco tutti uguali ma Luggero magari forse ho capito male io ecco questo ci chiede Elena è vero la gente ha voglia di uscire a spazio all'aria aperta ci chiediamo l'ultimo sforzo sono convinto che in un breve tempo avremo anche questo tipo di ritorno nel senso che stante le situazioni che abbiamo queste curve che non sono più queste rette o curve che se io non sono più in salita la tendenza a mio parere avremo una sicuramente una discesa per cui anche a livello nazionale si apriranno queste possibilità di poter avere la possibilità di uscire e di ritorizzare i nostri spazi all'aria aperta per oggi però le misure sono ancora vigenti se nulla cambia fino al 3 di maggio saranno queste le misure che dovremmo ancora mantenere è un po' scappato perso è un po' non viene qua la notizia insomma adesso sono messi in Covid no i deceduti non sono tutti Covid eh ho deceduto prima per San Giovanni per il nostro territorio adesso per non distinguere sempre sono 12 da Covid da quelli che ho detto prima in vista dell'anno ho chiesto già tre volte ricordato non tutti grazie non capisco questo tutto il Covid sì l'ho detto prima Marina io ho dato il dato per Sistano perché come dicevo prima il dato rilevato sia degli ospedali che delle case protette e comunque incidenti è un dato che viene arrivato a San Giovanni e assegnato come incidenza di mortalità sul versiceto ma come se può essere anche persone in transito può essere persone che arrivano ad altri luoghi e vengono ospitate nel nostro ospedale per questo che do questa indicazione ma non per sminuire il valore della morte si è chiaro dunque dunque qua ecco sono tutte citazioni quindi vado un po' veloce è vero se basta i tamponi andrebbero fatti un po' su tutti in maniera con il suo primo orizzontale ma non ci sono le condizioni né economiche né economiche forse potremmo anche fare non ci sono gli reagenti non c'è la possibilità di farlo l'ordine di priorità e la popolazione è posta a seguire rispetto alle altre che sono rispetto al sanitario ospedale sanitario territoriale forse dell'ordine e poi popolazione sanificazioni locali eh sanificazioni locali potrebbe essere anche questo un incentivo che potrebbero mettere in campo per sanificare i locali tutte le varie attività produttive Marco già detto prima esami sireologici sono seguono quelle indicazioni di priorità che dicevo Elena i cimiteri perché non aprirli abbiamo un disposto regionale che ci dice che i cimiteri devono rimanere chiusi devo rimanere chiusi è un'ordinanza del presidente della regione Emilia Romagna quindi io non posso andare oltre noi possiamo solo restringere quelli che sono ordinanza a livello superiore quindi la gerarchia è stato regione comune io non posso fare di più posso fare solo non posso far di meno scusate rispetto a quello che mi viene a livello superiore posso fare di più cioè se ad esempio i cimiteri fossero mantenuti aperti li potrei chiudere ma siccome sta detto che rimanere chiusi non posso aprirli ecco vero Ivana gli operatori è stata richiesta spessamente dall'ASDA all'ASDA a livello superiore la disponibilità di altri operatori ma purtroppo come nelle CRA come in ospedale tutte le strutture sanitarie c'è veramente stato un grande contagio degli operatori positivi o in isolamento è un grosso problema questo qua Sebastian sì è vero sarebbe necessario fare tutti e tutti quanti i tamponi per le persone che vanno lavorare per fare i tamponi per capire siamo sempre lì userebbe riuscire ad avere il quadro complessivo quando noi abbiamo un quadro complessivo siamo in grado di agire ma se non abbiamo le informazioni dettagliate bisogna applicare cosiddette misure di prevenzione che sono sempre le stesse dp c'è usare mascherine distanziamento igiene personale Marco ribadisco quello che ho detto prima paolo che mi dice allora fino a venerdì andavamo male perché troppa gente in giro ora tutto bene perché muoiono si mette no no questa è una provocazione io dico solo che abbiamo situazioni da migliorare sicuramente non possiamo mollare adesso siamo in un stadio positivo stiamo andando bene non dobbiamo mollare assolutamente non dobbiamo mollare è chiaro che io poi anche le informazioni che ricevo sono quelle che poi quelle che vi do sono quelle che ricevo sollecitate eccetera è chiaro che ad un certo punto mi si dice che c'è un aumento rilevante di posizione positiva vi do questa informazione è chiaro che inizialmente vedo il dato alto mi preoccupo poi vado a capire e cerco di sedimentare cerco di dare l'informazione giusta e cerco di agire in funzione di informazione giusta ma detto che questo anche noi agiamo in funzione di informazioni che arrivano Alberta il tampone a domicilio anche qui è in funzione della situazione quindi l'ASL decide quale priorità darsi ho detto prima quali sono le sequenze di priorità è chiaro che se c'è una situazione da risolvere particolare l'ASL può decidere di intervenire per effettuare il tampone non so cosa Ivana nessun processo quale azione sì noi l'azione stiamo mettendo in campo questa operazione di controllo su tutte le realtà dove ci sono degli ospiti persone anziane SACFOS è attivata va a controllare tutte queste realtà poi ci riferirà come saranno le cose se sono applicati i protocolli come vengono applicati come vengono esistiti eccetera eccetera in sostanza se le misure di prevenzione sono applicate queste sono le misure che mettiamo in atto chiaramente nelle case protette anche qui ci sono una serie di protocolli che adesso non vi sto a indicare ma è chiaro che separano le persone positive da quelle non positive quelle negative c'è tutta una separazione quindi mantenere le persone isolate ecco c'è tutto un protocollo che viene seguito anche nelle case protette Samantha protocolli anche nei supermercati perché sono sempre lì secondo me l'azione diciamo dovrebbe essere davvero capillare Tiziano un discorso che aprono le ditte quindi come gestire tutte le problematiche dei bimbi non è il primo quesito sono tanti che mi arrivano anche su direttamente sulla mia posta stiamo guardando a livello di comune cosa possiamo mettere in campo però è un problema non piccolo questo qua quando ho parlato di attività il fatto di come gestire i bimbi con le scuole chiuse non è un problema piccolo Marco l'uso delle mascherine obbligatorio noi stiamo ancora diceva prima l'assessore distribuendo ancora mascherine ne abbiamo già confessionate altre 2000 le andremo a distribuire in questi giorni in luogo diciamo di presenza delle persone del pubblico delle persone che vanno e utilizzano e frequentano gli agestizi aperti autorizzati essere aperti senza vi ringrazio davvero perché c'è tanta partecipazione e tanta voglia di sapere noi chiaramente ce la mettiamo tutti per dare tutta l'informazione a tutti voi che siano più precise possibili poi a volte non si riesce a entrare troppo nel merito perché anche noi facciamo fatica ad averle queste informazioni nonostante che ci doperiamo per averle adesso volevo darmene una che secondo me è importante ed è questa sulle mascherine dicevo prima io sono fortemente convinto consapevole e cosciente sul fatto che si debba necessariamente usare le mascherine quando si è a contatto con altre persone allora noi adesso dicevo prima abbiamo già distribuito tante mascherine migliaia ne continueremo a distribuire migliaia gratuitamente voi sappiate che sono disponibili ormai in quasi tutti gli esercizi quindi ormai la presenza c'è allora qualcuno mi dice come vengono usate queste mascherine allora io credo che facciamo bene a dirvi che c'è un link un luogo dove possiamo vedere va de me come utilizzo mascherine che ho visto essere promosso dal comando di Vigil Fuoco visto all'interno fuoco dell'acqua comunque il va de me come utilizzo mascherine allora noi insistiamo molto sulle mascherine che stiamo distribuendo solo un precisazione ma non voglio essere troppo ridondante le mascherine che possiamo avere sono queste con il filtro e anche questa azione diciamo mobile tra virgolette con la valvola come viene definita che consente l'esalazione chiude protegge quindi l'operatore questo è un dpi come si dice in gergo tecnico protegge l'operatore chi lo indossa però siccome c'è una valvola che si apre quindi c'è un'emissione quindi c'è un'esalazione protegge la persona ma si può emettere poi c'è la mascherina chirurgica che protegge l'esterno quindi protegge l'esalazione ma non l'operatore ci hanno consegnato queste mascherine qualcuno definiva di poca efficacia comunque sono state consegnate dalla protezione civile migliaia quindi arrivano direttamente dalla protezione civile sono mascherine molto semplici definire anche mascherine un panno piegato poi ci sono queste la FFP2 che proteggono sia l'entrata che l'uscita e quindi filtrano molto e sono anche faticose da portare tra virgolette perché queste con la valvola chiaramente favoriscono l'uscita dell'aria quindi sono meno faticose da portare cosa voglio dirvi con questo che noi e poi adesso abbiamo un'altra mascherina che non ho qua quella di stoffa se riusciamo a recuperarla cosa voglio dirvi in questa ottica qua che noi adesso non entriamo nel merito di chi deve usare e chi non usare la mascherina perché chiaramente i medici sanno quello che devono fare io non agisco in quella direzione voglio solo dire che questa informazione che è arrivata che potrete scaricare da internet ci dice in sostanza che per noi per noi comuni cittadini che siamo fuori tutto il giorno è consigliato usare primariamente quel tipo di mascherina qua che è l'FFP2 che protegge sia l'esterno che l'interno oppure se vogliamo la mascherina chirurgica che sarebbe questa oppure noi adesso stiamo ricependo da una da dite equilocale tra cui anche una nota produttrice di macchine sportive delle nostre dintorno mascherine in tessuto queste mascherine in tessuto e mascherine che ci consentono di contenere diciamo l'emissione di quella che può essere la nostra uscita la nostra esalazione quindi noi stiamo spingendo perché si usino queste mascherine soprattutto chirurgiche se vogliamo più semplice non sono diciamo emarchiate queste che consentono maggior ragione questa è ancora meglio che consentono di proteggere noi e anche gli altri quindi l'invito è noi stiamo distribuendo queste mascherine di usarle con regolarità l'unica cosa che è meno efficace è questa qui con la valvola per quanto riguarda la contaminazione generale quindi cosa voglio dire in conclusione usiamo spessamente mascherine di tipo chirurgico oppure queste qui di tipo diciamo di tessuto che consentono di assorbire l'esalazione e l'umidità e questo ci consentono di non creare o non sviluppare la diffusione del virus quindi in prospettiva l'auspicio è che tutti tutti quanti useremo andremo ad usare e promuovremo l'uso di queste mascherine bene adesso concludo dandovi ancora alcune informazioni di carattere generale l'assessore vi ha parlato appunto di quello che stiamo facendo stiamo oggi anche abbiamo avuto contatti tra di noi tra gli uffici tra l'assessore e l'assessore stesso stiamo determinando degli aiuti concreti si è arrivato il momento a questo punto di appunto di passare all'azione diretta quindi a breve riusciremo a determinare al meglio con precisione quella sarà il contributo che daremo allo sport e all'associazionismo per le mancate entrate che ci sono state a seguito di questa chiusura forzata daremo anche contributo per le scuole paritarie insieme all'assessore Paola Pagnoni e le figure interne stiamo definendo quale sarà il contributo e l'aiuto che daremo alle scuole paritarie perché chiaramente anche qui è uno studio che stiamo sviluppando e determinando domani abbiamo un incontro con le associazioni di categorie produttive commercio eccetera anche qui cerchiamo di vedere come usare al meglio quei 500 mila euro che dicevo abbiamo messo a disposizione che abbiamo a disposizione il nostro bilancio che era nato questa disponibilità economica per favorire l'occupazione per favorire l'arrivo di nuove imprese adesso questi 500 mila euro come dicevo li utilizzeremo per mantenere e aiutare le imprese che insisto imprese e attività esercizi commerciali che insisto sul nostro territorio domani incontreremo tutte le parti sociali per capire un po' come meglio distribuire queste risorse e ancora l'invito è noi ce la stiamo mettendo tutta aiutateci diamoci una mano tutti continuiamo a mantenere le regole stiamo in casa sforziamoci ancora un po' quando usciamo usiamo le mascherine che sono state che ho detto prima che sono state messe a disposizione e che ci saranno sempre più a disposizione ma usiamole quando usiamo di casa e l'invito se volete dateci una mano anche concreta contribuendo con il famoso 5 per 1000 come dicevo anche l'altra sera dandoci questo contributo per noi importante per poterci aiutare tutti quanti con i contributi che perveranno e al solito se vorrete potete inviarmi delle richieste precise alla mia mail domande covid19 chioccialocomune presiceto.it credo di essere arrivato a rispondere a quasi tutte quindi mi sono messo in pari quindi se vorrete ponetemi queste domande ancora sulla mia mail personale riceverete risposte dirette credo che abbiamo parlato abbastanza a lungo anche oggi non ho risposto a tutti i quesiti che sono arrivati in diretta li scaricherò e vi darò risposte nei prossimi giorni grazie buona serata buona serata grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori